Niente più esibizioni dal vivo per gli Aerosmith. Dopo una lunga e gloriosa carriera, infatti la band deve fermare i live, colpa dei problemi alla voce del proprio leader. Steven Tyler infatti non può cantare come prima, gli Aerosmith hanno dovuto cancellare il loro tour d'addio. La rock band, sulle scene dal 1970, con un post sui social i primi di agosto, ha quindi annunciato il ritiro dei palchi a causa delle condizioni fisiche del frontman. Dopo un grave infortunio alle corde vocali, con frattura addirittura della laringe, nonostante gli sforzi e le cure mediche, si legge nell'accurato messaggio, la sua voce non è più la stessa. La decisione, definita straziante e difficile, non porterà certo allo scioglimento della band, come anche confermato da New York Times, però deve essere considerata una pausa forzata. Alcuni dubbi infatti erano stati sollevati per un passaggio del comunicato dedicato alla Blue Army, l'esercito dei fan. È stato un onore vedere la nostra musica diventare parte della vostra vita, in ogni club, in ogni grande tour, in ogni momento grandioso e privato, ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite. Così appunto c'era scritto, era il 1970 quando una scintilla di ispirazione divenne gli Aerosmith. Grazie alla nostra armata Blue, quella scintilla ha preso fuoco ed è rimasta accesa per oltre 50 anni. Alcuni di voi sono con noi fin dall'inizio e tutti voi siete il motivo per cui abbiamo fatto la storia del rock and roll. È stato un onore per noi vedere la nostra musica diventare parte di voi, in ogni club, in ogni grand tour, nei momenti grandiosi e privati, ci avete dato posto nella colonna sonora delle vostre vite. Abbiamo sempre desiderato lasciarvi a bocca aperta mentre ci esibivamo. Come sapete la voce di Steven è uno strumento incredibile, ha trascorso mesi lavorando insancabilmente per riportarla al livello di prima dell'infortunio. Lo abbiamo visto lottare con la migliore squadra medica al suo fianco. Purtroppo un recupero completo dal suo infortunio vocale non è possibile. Abbiamo preso la decisione straziante e difficile ma necessaria di ritirarci dai palchi dei tour. Siamo stati grati a tutti coloro che sono stati entusiasti di mettersi in viaggio con noi un'ultima volta, al nostro incredibile team, alle migliaia di persone di talento che hanno reso possibile le nostre corse storiche. Hanno proseguito ancora gli Aerosmith nel comunicato. Un ultimo ringraziamento a voi, migliori fan del pianeta. Ascoltate la nostra musica ad alto volume ora e sempre. Dream on, continuate a sognare. Avete realizzato i nostri sogni. Il Peace Out Farewell Tour era già stato posticipato, lo ricordiamo, di un anno. Proprio in seguito all'infortunio subito da Tyler a settembre del 2023 alla USB Arena di Long Island. La partenza della tournera prevista a Pittsburgh il 20 settembre prossimo, per poi proseguire fino a febbraio con tappe negli Stati Uniti e anche in Canada, tra le quali un'esibizione al Madison Square Garden di New York per il 23 febbraio del 2025. Purtroppo non è la prima volta che gli Aerosmith dicono addio ai palchi. Che era già accaduto nel 2017, quando ci avevano provato con l'Aero Vederci Baby Farewell Tour. Questa volta di sicuro c'è uno stop, non certamente per le loro canzoni non live, come uno dei loro maggiori successi. E ci riferiamo a Dream on. Questo classico citato e soprattutto tratto dal loro album di debutto del 73 è un inno all'aspirazione e alla perseveranza. La voce potente di Tyler e il tocco magico di Joe Perry alla chitarra rendono questa canzone un capolavoro senza tempo che adesso andiamo ad ascoltare insieme. Grazie a tutti.